Di la verità, hai mai sentito parlare di orderly? No? Beh, e allora sappi che è normalissimo. Ed è normalissimo perché orderly uscirà esattamente insieme a questo video. Di che cosa si tratta? Beh, per capirlo dobbiamo fare un piccolo passo indietro e precisamente tornare a circa 20 giorni fa, quando ho pubblicato un altro video in cui presentavo un programmino molto alla buona realizzato in C Sharp durante le vacanze di Natale, giusto per non annoiarmi. Bene, questo programmino non faceva altro che mettere ordine sui file del desktop e quindi andare a prendere tutti quanti i file immagine e trasferirli in una cartella, prendere i file che invece erano dei documenti, trasferirli in un'altra e così via. Il software ha avuto un discreto successo, infatti nei giorni immediatamente successivi alla sua uscita circa 4000 download si sono accumulati, ma insieme ai download si sono accumulati anche i commenti, o meglio, i suggerimenti. E proprio in base a questi suggerimenti ho realizzato una serie di modifiche, ma tante modifiche, al punto che il software è diventato una cosa completamente diversa, che è in grado sì di fare ordine, ma questa volta in tutto il computer è proprio come vuoi tu. E allora non perdiamo tempo e andiamo a vederlo insieme. E se ti senti pronto, iniziamo! E allora, siamo tutti pronti? Sì? Beh, ma prima dobbiamo fare qualcosa. Ma come cosa? Il nostro consueto rituale apotropaico per tenere a bada le insidiosissime divinità del tubo. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! Come ho detto in apertura, subito dopo l'uscita del, boh, chiamiamolo nonno di questo software, mi sono state fatte una serie di richieste e di suggerimenti nei commenti. In particolar modo mi è stato chiesto di renderlo portable, in modo che non richiedesse nessuna installazione. In secondo luogo mi è stato chiesto di renderlo molto più flessibile e metterlo in grado di riordinare praticamente qualsiasi cartella del nostro computer, scegliendo anche la cartella di destinazione a nostro piacimento. In terzo luogo mi è stato chiesto di modificare completamente l'interfaccia grafica in maniera tale da renderlo più intuitivo. Insomma, in sostanza, mi è stato chiesto un software completamente diverso. E proprio in risposta a tutti questi suggerimenti, eccomi qui a presentarti Orderly, un parto della mia fantasia malata che però è in grado di mettere ordine letteralmente in qualsiasi cartella del tuo PC. Ma per andare a scaricarlo come facciamo? Beh, proprio come al solito. E quindi andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo, come sempre, Gentiluomo Digitale. Ok, facciamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il sito, dopodiché ci porteremo qui in alto nella sezione Downloads. Una volta che si sarà aperta la pagina, tutto ciò che dovrai fare sarà scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Orderly. Nel caso in cui non dovessi riuscire a trovarlo facilmente, nessuna paura. Ti basta andare qui in alto sulla lente di ricerca, digitare il nome del programma proprio come sto facendo io, premere il tasto invio sulla tua tastiera e vedrai che avrai comunque la possibilità di scaricarlo. Facciamo quindi un clic su Orderly per portarlo sul nostro computer. Come vedi il download è piccolissimo e fatto questo altro non dovremo fare se non andare a cliccare su questo pulsante per andare ad aprire la cartella in cui lo abbiamo scaricato. A questo punto possiamo anche chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Fatto questo andremo a fare un clic con il pulsante destro del mouse sul nostro file seguito da un clic sulla voce Estrai tutto. Clicchiamo quindi sul pulsante Estrai per avviare il processo di estrazione e vedrai che automaticamente si aprirà la cartella scompattata. Al suo interno trovi un'altra cartella, questa che si chiama Net 6.0 Windows e aperta anche questa troverai l'eseguibile del programma che come detto non richiede assolutamente alcuna installazione ma andiamo a vedere adesso come funziona. Come puoi vedere sul mio desktop ho creato una cartella disordinata al cui interno possiamo trovare di tutto e di più. Nella fattispecie vediamo che c'è una cartella allo stato brado, una cartella senza senso, alcuni file audio, alcuni documenti di testo di vario tipo TXT, DOC, DOCX e così via, alcuni file compressi, dei file strani con un improbabile estensione XYZ, fogli di lavoro Excel, immagini, audio, video e qualsiasi altra cosa. Insomma l'emblema della tipica cartella disordinata. Ma che cosa possiamo fare a questo punto con orderly? Beh come prima cosa direi che sicuramente ci conviene lanciare orderly. Per farlo possiamo fare doppio clic su orderly.exe e vedrai che ti si aprirà una finestra come questa che ti chiede se effettivamente vuoi eseguire questo programma. Naturalmente faremo clic sul pulsante esegui e molto probabilmente nel caso in cui le .NET sul nostro pc non fossero aggiornate ci verrà chiesto di scaricarle. Per farlo facciamo clic sul pulsante sì e vedrai che ti si aprirà automaticamente la pagina del sito ufficiale Microsoft e partirà in automatico anche il download. Per lanciarlo una volta terminato facciamo clic su questa scritta qui vedrai che ti si aprirà un'altra finestrella che ti consentirà di cliccare su esegui per effettuare l'installazione delle .NET. Proseguiamo facendo clic sul pulsante installa e confermando così di voler accettare che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo. Come vedi in pochi secondi le .NET vengono installate e ci basta a questo punto cliccare sul pulsante chiudi e chiudere anche la finestra del browser retrostante che nuovamente non ci serve più. Possiamo ora tornare a lanciare il nostro orderly. Per farlo facciamo nuovamente doppio clic su orderly.exe e quindi sul pulsante esegui. Verrà mostrato un disclaimer che viene mostrato ogni volta che viene aperto il programma perché si tratta di un programma portable e quindi non memorizza le tue impostazioni. Facciamo clic sul pulsante accetta e ci troveremo su questa minimale ma importantissima finestra iniziale che ci chiede sostanzialmente qual è la cartella che vogliamo riordinare, se vogliamo specificare una destinazione per i nostri file diversa da quella di default, quindi se non scriveremo niente tutti i documenti andranno a finire nella cartella documenti, tutte le immagini nella cartella immagini, tutti i file audio in musica e così via. E poi quali sono le categorie di file che vogliamo organizzare e quindi se vogliamo organizzare solo i documenti, solo le immagini oppure i documenti, le immagini, i video e così via. Naturalmente è presente anche un pulsante seleziona e deseleziona tutto per velocizzare il nostro processo di scelta. Fatto questo ci basterà semplicemente fare un clic sul pulsante riordina e come vedremo a brevissimo in pochi secondi tutti quanti i file verranno riordinati in maniera assolutamente automatica. Ma a questo punto andiamo immediatamente a fare un esempio. Buttiamo un attimo giù la cartella orderly, andiamo ad aprire la nostra cartella disordinata e spostiamo leggermente il nostro software in maniera da poter visualizzare tutto quanto. Quindi selezioniamo l'origine che è la nostra cartella disordinata che si trova sul desktop, selezioniamo la nostra cartella e in questo caso supponiamo di voler mettere tutti quanti i file nelle loro cartelle di default. Supponiamo anche di voler selezionare tutto quanto e mettere in ordine tutto il contenuto. Una volta che abbiamo selezionato la cartella di origine e i file che vogliamo andare a riordinare, come vedi viene effettuato anche il riordino dei file di tipo diverso e delle cartelle, clicchiamo semplicemente sul pulsante riordina. Ci verrà mostrato un riassunto di tutto ciò che ha fatto questo programma e di dove è andato a finire ogni singolo file. Possiamo a questo punto chiuderlo e vedremo che la nostra cartella disordinata sarà decisamente più riordinata e nella fattispecie tutte quante le varie cartelle che erano presenti al suo interno, quindi la cartella allo stato brado e la cartella senza senso, saranno state spostate nella voce cartelle varie. I file non categorizzati si troveranno all'interno di altri file ed ancora i file compressi all'interno dei file compressi. Tutti gli altri file sono stati spostati nelle rispettive cartelle di sistema e quindi i documenti saranno tutti all'interno di documenti le immagini, all'interno di immagini, la musica, in musica e così via. Nel caso in cui non fossimo convinti o non ci piacesse quello che è appena successo, possiamo semplicemente cliccare sul pulsante annulla. Guarda attentamente che cosa succede nel momento in cui ci clicco. Come vedi i file che erano stati spostati, ad esempio in questo caso in musica, scompaiono e nella nostra cartella disordinata, ritroveremo tutto quanto esattamente com'era. Una piccola precisazione. Nel caso in cui utilizzassi questo software per riordinare il tuo desktop, se premi il tasto annulla le icone ritorneranno tutte quante sul desktop ma non verranno mantenute le posizioni originali. Quindi ricordati semplicemente questo dettaglio. Ma se volessimo invece decidere noi la destinazione in cui vogliamo che vengano posizionati i file che andremo a riorganizzare? Beh, niente di più semplice. Partiamo sempre dalla nostra cartella disordinata, torniamo sul programma e andiamo per mezzo del pulsante destinazione a scegliere una cartella di destinazione oppure anche a crearla. La cartella si può trovare anche sullo stesso disco oppure su una qualsiasi altra unità del computer. Supponiamo ad esempio di voler creare una nuova cartella all'interno della nostra unità C, quello che dovremo fare è, dopo averla naturalmente aperta, un clic con il pulsante destro, scegliere la voce nuovo e quindi cartella e chiamarla ad esempio cartella riordinata. confermiamo il nome, selezioniamo la cartella cliccando su questo pulsante, dopodiché ci basterà cliccare sul pulsante riordina, vedremo che tutti quanti i file saranno stati spostati dalle cartelle originali nella cartella riordinata. Come vedi la cartella disordinata diventa completamente vuota in questo caso, ma se ci porteremo su C e quindi sulla nostra cartella riordinata, troveremo riordinato per l'appunto tutto quanto il suo contenuto. Sotto le voci altri file, la voce audio conterrà tutti quanti i file audio, la voce cartelle varie conterrà tutte le cartelle che originariamente si trovavano all'interno della cartella precedente e lo stesso per le cartelle documenti, file compressi, immagini video e così via. Mica male no? E a questo punto alcune importanti precisazioni. La prima è un suggerimento, ovvero quello di mettere questo programma, e cioè la cartella che lo contiene con tutti i file al suo interno, in un pendrive. In questo modo avrai la possibilità, oltre che di riordinare tutti quanti i file e le cartelle del tuo computer, di riordinare letteralmente qualsiasi cartella su qualsiasi computer tu voglia. La seconda raccomandazione invece riguarda il tasto annulla. Il tasto annulla annulla l'ultima operazione effettuata. Ma cosa vuol dire questo? Significa che ti suggerisco, quando fai un'operazione di riordino, di verificare subito che tutto quanto sia di tuo gradimento ed eventualmente, se qualcosa non ti piacesse di utilizzare immediatamente il tasto annulla, prima di fare ulteriori operazioni, oppure prima di chiudere il programma. La terza raccomandazione riguarda, come al solito, la questione degli antivirus, che purtroppo, come ormai abbiamo ben capito, hanno il brutto vizio di marcare come potenziale minaccia qualsiasi file loro non conoscano. E purtroppo devo informarti che la nostra fama non è ancora giunta fino a loro. Ed anche oggi siamo giunti al termine, ma devo confessarti di non sentirmi ancora soddisfatto, perché mi manca ancora una cosa, ovvero i ringraziamenti che quest'oggi guarda caso sono tutti per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!